Manca in realtà un protocollo per difendersi quando la nostra reputazione o la nostra azienda o il nostro prodotto viene messo in discussione attraverso il web. Esattamente, ormai il mondo digitale è parte della nostra vita quotidiana e i problemi che possono nascere nel mondo digitale spesso toccano la nostra vita privata oppure la nostra azienda. Immaginiamo che qualcuno abbia diffamato noi o la nostra famiglia oppure che qualcuno stia parlando male della nostra azienda oppure vendendo online del materiale contraffatto oppure senza rispettare i brand. Qual è il denominatore comune? Online. Quello che è online purtroppo è volatile per natura. C'è adesso però potrebbe scomparire domani, potrebbe scomparire tra un'ora o tra un minuto e una volta che è scomparso non c'è più modo di riottenerlo, nemmeno le forze dell'ordine purtroppo riescono ad accedere a un post che è stato cancellato, a un sito che è stato ripulito. È quindi fondamentale per il cittadino, per l'azienda poter acquisire le prove di quello che è successo per poter far valere i propri diritti. Quindi voi come fate? Vale la regola della prudenza e dell'agire prima che queste prove scompaiano. Esatto, abbiamo creato uno strumento per permettere di agire velocemente nel momento in cui questo succede autonomamente anche a mezzanotte, anche durante il fine settimana il privato cittadino o l'azienda può tutelarsi salvando la prova, acquisendo la prova, cristallizzandola in modo da avere con valore legare la prova di quello che è successo e poter poi con calma parlare con l'avvocato e decidere come agire. È una specie di, diciamo così, vigile, sempre sveglio, che sta nel web. C'è un protocollo che viene utilizzato per monitorare quello che accade intorno a noi o ai nostri interessi? Esattamente, abbiamo ideato un algoritmo, l'abbiamo tra l'altro brevettato in Italia ed è patent pending in Europa per poter acquisire le prove online e quindi dare a tutti la possibilità di tutelarsi in un mondo che quello digitale ormai è sempre più impazzito.